Ti sto facendo un complimento che fai dei ottimi servizi e sembra che non li fai vedere perché sembra che non cogliate quello che c'è nel servizio e lì viene fuori una cosa palese, lo dice quello sdentato, soppischelli ci sparano se solo gli dimmo qualcosa. Non è una battuta romanesca, lo spaccio di cocaina, di eroina ormai è in mano ai minorenni. A Torbella Monaca, che io conosco perché ci vado nelle periferie, tra l'altro a Torbella Monaca, e lo voglio dire, c'è un teatro bellissimo con una amministrazione coraggiosissima che fa cultura in quelle periferie perché la sicurezza viene anche da quello. Bene, a Torbella Monaca i ragazzetti, i pischelli di Torbella Monaca nel gergo dicono se li sono già bevuti tutti, tant'è che lo spaccio adesso è affidato a minorenni, ragazzetti che vengono da altre periferie. E da qui anche gli scontri fra gang, fra bande, immaginatevi, bande di minore... Ma questo cosa vuol dire, Vallo? Voglio dire che è giusto affrontare la questione anche in termini di repressione e di polizia. Non ho niente in contrario, ma è illusorio pensare che in una situazione come quella italiana drammi di questo tipo si risolvano soltanto con la polizia. Quelle periferie sono abbandonate. Quelle periferie là dove c'è qualcosa, ho citato non a caso il teatro di Torbella Monaca, come a Tor Pignattara, potrei citare l'organizzazione altramente che organizza corsi di italiano per i migranti, scuola per bambini, eccetera. Ecco, allora lì, ecco il discorso di prima. Perché questi governi, questi, non mi importa questo, quello, quell'altro, non investono in cultura, non riprendono quelle periferie, non vanno sul territorio, ma non alla sagra della zucca, andarci per restarci, non potenziano, non finanziano le parti sane, perché ci sono parti sane in quelle periferie. Scusa, sentiamo il pubblico. Sulla droga, signori, ma qui se io, adesso lo dico vedrai che fischi, se io parlo di legalizzare, succede la fine del mondo, ma qualche forza politica che ha il coraggio di dire una cosa impopolare, perché se no se la politica deve dire solo cose popolari è finita, andiamo tutti a casa. Qual è la cosa da dire? Legalizzare la droga significa togliere alle mafie una fetta di business enorme. Allora, guardi, no, 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 va bene, togliete i piccoli, allora voglia la diamo dentro. Elisabetta viene da Roma, dal Pigneto in particolare. Un attimo solo, un attimo solo. Abbiate rispetto, abbiate rispetto per il pubblico. Oh, qui è dura, il pubblico e anche il parterre. Dica, prego, buonasera innanzitutto. Buonasera, sono Elisabetta, sono una ragazza non vedente e praticamente io abito in un quartiere che è Pigneto-Prenestino e prima non avevo difficoltà ad uscire di casa perché ho un cane guida quindi lui ha esigenza di uscire in qualsiasi momento e non avevo problemi neanche ad uscire la notte. Adesso attualmente da quando ci sono questi negozi che vendono alcol a tutti gli orari, a qualsiasi orario e soprattutto in questi negozi si nasconde anche dello spaccio perché chiaramente questi non è che vendono solo alcol, si mettono pure lì, spacciano. Praticamente per me è diventato difficilissimo uscire come è diventato difficile anche prendere... Quindi esce ancora o no? Ho difficoltà, mi sento in pericolo, mi sento abbandonata da un sistema che non mi protegge come non mi protegge sui mezzi pubblici perché il minimo che mi può capitare è che me derubbano o che mi mettono le mani addosso quando esco. Eppure io non so, bella, eh? Come ha detto? Non ho capito che ha detto, perché fa applaudire. Ho detto, io non so, bella, sai, dice, sta strafica, dice, oh, gli mettemo le mani addosso, assurramo, no?